Salve carissimi amici tutubi, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. E finalmente venne il giorno nel quale non potei leggere Topolino in cartaceo, ma dovetti testare l'abbonamento digitale a 360 gradi proprio per leggere il Topolino. Topolino 3400 numero tondo 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 che però non viene omaggiato con una copertina che vada a celebrare il raggiungimento di questo obiettivo, ma c'è un editoriale all'interno del volume che ci parla un po' di questo centenario particolare facendo un po' un rapido recap di alcuni numeri legati per l'appunto ai vari centenari, ai 34 centenari compreso questo. Facendo notare come in realtà sono relativamente pochi i numeri che avevano il numero del centenario in copertina in una qualche maniera. Mi sarebbe piaciuto? Probabilmente sì, però accetto che abbiano voluto fare una copertina un pochettino più allegra, un pochettino più spenserata, anche se mi piange un pochettino il cuore, perché per numeri particolari io ci metterei sempre il titolare della testata, cioè Topolino, in copertina e non qui o qua in una copertina bellina, molto molto carina, di Francesco Di Polito, ma che, ecco, centenario, Topolino, ci metterei il topo. Però qui si entra un po' molto nei gusti personali e soprattutto nelle politiche editoriali che, se non ci sono storie, ecco, di Topolino, di punta da pubblicare sul centenario, ci sta, ecco, non inserirlo in copertina. Al di là di questo, la prima cosa che ci viene agli occhi sfogliando il Topolino è che sul numero 3404 e 3405 ritorna Area 15 e finalmente vedremo all'opera anche Newton Pitagorico. Se ho compreso bene, questa qui dovrebbe essere la prima storia di Area 15 che vedrà un cambio ai testi. Non avremo più, infatti, Roberto Gagnor, ma Marco Nucci. Ai disegni, invece, troveremo Libero Ermetti, che non so se ha disegnato effettivamente lui questa locandina teaser, visto che non mi pare il tratto di sciarrone, e comunque se è Libero Ermetti io mi fido, ha la mia fiducia Libero Ermetti su quello che disegna, e tenetele d'occhio questi due numeri perché potrebbe venire fuori una storia interessante, visto che comunque Area 15 al momento è una gran bella serie. Prima di passare alle storie analizziamo anche il nuovo editoriale di Alex Bertani, che cambia foto pubblicando quella che era già poi stata presentata, se vogliamo, anche su Facebook, una bella foto solare, marittima, mi piace, mi dà proprio l'idea di quasi di casa, in realtà abitando a Rimini vicino al mare, il fatto che sia una foto ambientata al mare ci sta alla grande, mi piace, ecco, mi dà proprio più l'idea di casa. L'editoriale invece ci presenta, oltre a presentarci come questa nuova pagina, cambia rispetto al passato, prendendosi più spazio per scrivere, quindi c'è proprio materialmente più spazio per la scrittura, per poterci dare informazione, per poter parlare, dialogare con noi lettori, e se lo prende abbastanza tutto questo spazio. Mi piace l'idea che, almeno, l'impostazione di prima limitava un po', stringeva un po', qui si prende più spazio, si perde un po' di colore, mentre prima c'era comunque la, era, diciamo, il testo dell'editoriale, era all'interno di una cornice bianca, ma lo sfondo era giallo, qui perdendo quello sfondo rimane forse un pochettino asettico, se vogliamo essere proprio pignoli, 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 però, ecco, si tratta di, per me, sottigliezze, e all'interno dell'editoriale ci presenta un po' le storie che vediamo, che vedremo di qui a pochissimo, all'interno di questo numero. E dopo due anni che leggiamo gli editoriali di Alex Bertani, con questo restyling grafico, posso dire che un po' mi mancano gli editoriali di Valentina De Poli, perché, da un lato, mi piace quello che Alex sta facendo, cercando di puntare sul fumetto, sulle storie a fumetti, sugli autori. Dall'altro lato, mi manca quella... sentirmi parte di una famiglia allargata, che Valentina De Poli in un qualche modo faceva. Era il aprirti un po', dirti un po' di... a volte anche fatti suoi, in realtà, quindi era proprio molto più intima, molto più diretta, ed è una cosa che, secondo me, bisognerebbe fare un po' il connubio, un mix tra le due cose. Non mi importa sapere... cioè, non voglio che Alex Bertani mi dica che cosa ha fatto tra le 5 e le 6 del pomeriggio, di giovedì 22 aprile, non voglio, ecco, quel genere di dettaglio, però, ecco, un aprirsi un pochettino di più e non solo raccontarci le storie a fumetti potrebbe, ecco, essere il giusto mix, il giusto compromesso tra i due, per quanto capisca che ogni direttore abbia il suo approccio, il suo modo di relazionarsi, il suo modo di porsi, e apprezzo decisamente la volontà di parlarci del topolino, delle storie del topolino, e mettere quelle al centro dell'attenzione. E infatti, non perdiamo altro tempo e passiamo a parlare delle storie di questo numero. La storia di apertura è qui o qua, in Viaggio nel Micromondo, primo episodio, L'incidente. Sarà una serie di tre episodi, se non ho capito male, se non ricordo male, ad opera di Sergio Cabella, predisegni di Giampaolo Soldati. L'incipit, in realtà, è molto semplice. Abbiamo l'ennesima macchina di Archimede, che in questo caso rimpicciolirà qui o qua, i quali si ritroveranno, per vari motivi, necessitudini, a spostarsi dal laboratorio di Archimede, e finiranno nel giardino di casa di Archimede, scoprendo un po' tutti gli animali, tutto come funziona, scoprendo pian pianino, in realtà, nel corso degli episodi, come funziona, per l'appunto, il mondo degli insetti. Un argomento, se vogliamo, non particolarmente affrontato in questa maniera, in questa chiave, sul topolino, anche se l'idea del micromondo, vedere il mondo dal punto di vista degli insetti, non è una tematica così innovativa, in termini assoluti, così come tante piccole storie, dove, per l'appunto, i protagonisti si rimpicciolivano. La cosa che mi è piaciuta, però, è la capacità di Sergio Cabella, in questo caso, e qui, se nella storia di Sir Shackleton non mi era piaciuta, come aveva impostato la storia, non mi era piaciuta proprio la storia in sé, in realtà, qui, quello che mi è piaciuto particolarmente, è l'uso che fa dei personaggi, e delle relazioni che ci sono tra di loro. In particolare, mi è piaciuto davvero tanto il modo di comportarsi, di relazionarsi tra paperino e paperone. Un paperino arrabbiato nero, incarognito fino al midollo, perché sa che quello che è successo è tutta colpa dello zione, e incolperà, in una maniera anche abbastanza accusatoria, abbastanza feroce, lo zione di tutto questo. Una dinamica non troppo abitudinaria, non troppo usuale, per quanto assolutamente naturale, e anzi, interessante da vedere, messa in scena, soprattutto in una storia dalla quale mi aspettavo una tematica forse un po' troppo leggera, avevo aspettative di una serie, di una storia un po' molto leggera, un po' all'acqua di rose. Invece, tra il mostrarci gli insetti, come funziona il mondo degli insetti, tra le relazioni tra gli adulti, e il modo in cui si relazionano, sta venendo fuori qualcosa di, quantomeno, interessante. Una storia che, non so, non l'avrei messo come storia di apertura, qualcosa mi fa dire che avrebbero dovuto mantenere come storia di apertura Pantomius, ma ne parleremo tra pochissimo, sarebbe stata però un'ottima seconda storia. Ecco, non ce la vedo come storia di apertura, non mi sembra possa mantenere il peso, soprattutto su tutta la serie, di essere una storia importante del topolino, ma comunque ha delle buonissime carte da giocarsi, una buonissima struttura, e delle buone relazioni. Una storia che, ripeto, non è forse la storia migliore di questo numero, non la reputo tale, ma ha davvero delle carte in regola per poter essere, per essere, anzi, e per quello che abbiamo letto lo è, un'ottima storia di topolino. A seguire la storia c'è qualche pagina con degli editoriali, fondamentalmente sul mondo degli insetti, mostrandoci gli insetti, le foto sono tutte di Alex Bertani, fatte nel giardino di casa, come dice l'editoriale stesso. Mi è piaciuto perché, per quanto con molta semplicità, ci mostra l'insetto, ci parla delle sue caratteristiche, parlandoci di lui come se fosse lui stesso a parlarci a noi. Quindi, anche per i lettori più giovani, è qualcosa di, comunque, secondo me, abbastanza stimolante. Non è scontata come approccio, come apporto, e mi ha fatto molto, molto piacere. Ecco, molto semplice, nulla di, se vogliamo uno che conosce, vive un pochettino nella natura, conosce questi insetti, non vengono fuori peculiarità, o cose strane, o fuori dal mondo. Però, per chi abita in città, per chi non ha mai visto, effettivamente, alcuni insetti, può essere interessante saperne qualcosa di più. Si prosegue con Le strabilianti imprese di Fantomius, secondo capitolo, Furto nel futuro. Marco Gervasio, testi e disegni di una storia che settimana scorsa non l'ho detto, ma partiamo dalla colorazione. La colorazione è eccezionale. Da un lato abbiamo infatti la vicenda nel presente con i colori attuali, dall'altra i colori del passato nell'ambientazione del passato. È qualcosa che ho dato molto per scontato, ma che scontato non era, e che fa proprio strano vedere la dicotomia all'interno di questa stessa storia di due colorazioni ben distinte. Riuscendo però a essere comunque fedeli all'animo di Fantomius. Storia che è ambitata in un futuro ipotetico, nessuno ci dice mai effettivamente un anno, quindi boh, e il boh forte è legato al fatto che non è chiaro quando si è ambitata la storia e se dobbiamo pensare che quello che vediamo sotto mano sia un futuro ipotetico o meno. Dubito. Dubito sia un futuro ipotetico. credo anzi che si tratti della del nostro futuro della nostra realtà presente per quanto la storia sia ambientata in un anno ipotetico dove Paperino non è ancora dentro do Paperinic. Questo lo capiamo per via di quello che Paperino dice per come si comporta ma soprattutto per come si comportano altri personaggi. Zio Paperone in primis che compare a un certo punto all'interno della storia e si dimostra cigno, crudele un po' come era lo Zio Paperone più tipicamente martiniano perdendo un po' la connotazione che in un qualche modo anche Marco Gervasi ha utilizzato per tanto tempo ma riprendendo quelle spigolature che erano più tipiche di un Paperone degli anni 60 degli anni 70 per l'appunto utilizzato e scritto da Guido Martina chiaramente nulla di eccessivo però effettivamente la cosa è abbastanza evincibile e riscontrabile. E riscontrabile questa tipologia di scrittura in parte anche per Paperino per quanto Paperino risulti sempre un po' più buono di quanto non fosse quello effettivamente di Martina. Insieme Paperino e Fantomius si coalizzeranno per poter trovare il modo di rubare la maschera di Fumanet Chu rubata da Lady Senape nel primo capitolo portata nella paperopoli del presente e nascosta nel museo di Zio Paperone e i nostri dovranno trovare il modo per l'appunto di compiere il furto facendo con un Fantomius che cercherà di minimizzare per non far sembrare il furto come un furto lo è nei fatti non è che Paperino ci casca e dice ok non stiamo facendo un furto capisce che è un furto però Fantomius gliela rigira così talmente tanto bene che per quanto sia un furto per come si presenta lo stesso Fantomius Paperino un po' ci casca mi è piaciuto molto un paio di dialoghi che ci sono tra i due personaggi che mi fanno capire ancora di più come le cose potrebbero andare avanti nel corso di questa miniserie e in un qualche modo come si può ricollegare questa miniserie nello specifico con il capitolo Fantomius tutto cominciò così la storia per l'appunto che rinarrava le origini di Paperinic e dove Fantomius aveva un ruolo un po' troppo di primo priano ok continuo a pensare che se questa idea era già presente nella mente di Gervasio forse sarebbe stato meglio mostrarci prima questi eventi e poi gli altri anche perché effettivamente quel Paperinic continua a non farci una buona figura e questa qui la storia che stiamo leggendo sembra quasi un metterci delle pezze poi per carità magari era tutto pensato e sfortuna ha voluto che effettivamente per come sono uscite le storie la cosa funzioni decisamente di meno e fa sembrare questa una una forzatura una riscrittura per giustificare una storia del passato e se questo non bastasse la storia ha un bel ritmo delle belle dinamiche che a volte a Marco Gervasi non riesco a imputargli a volte gli imputo difetti problemi a livello di scioglievolezza di messa in scena di rapporti tra i personaggi e invece qui fa un lavoro egregio dalla prima all'ultima pagina con un finale che io non ce la faccio ad aspettare mercoledì prossimo io spero che settimana prossima Topolino mi arrivi cartaceo puntuale in anticipo così come la settimana dopo io voglio sapere come prosegue un cliffhanger incredibile un colpo di scena non posso dire posso dire inaspettato perché effettivamente non me l'aspettavo però bello bello diamine bello 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 io sono molto curioso di vedere per l'appunto come proseguirai dove questa storia vuole effettivamente andare a parare continuo a pensare che la naturale conclusione di questa storia sia giungere all'inizio di Papere Nick tutto comincio così comincio a pensare che quella sia la naturale conclusione di questa la fine l'inizio per quanto quello che è stato messo in scena per il prossimo capitolo è qualcosa che mi fa venire un hype assurdo non dico niente per l'appunto per non farvi spoiler specifici ma secondo me concorderete che si tratta di una storia di altissimo livello di buonissima qualità per tutta questa serie di meccaniche proseguiamo con una storia di Davide ai Cardi e Gian Paolo Soldati ai disegni disegni di Gian Paolo Soldati che non l'ho detto per la prima storia mi piacciono mi sembrano molto onesti non un artista che mi faccia strappare i capelli ma molto solido molto gradevole molto molto piacevole ai testi abbiamo un esordio non conosco questo mi suona come come autore forse ha fatto qualcosa da qualche altra parte che io ho già avuto modo di leggere perché mi suona quindi l'ho già sentito o ha delle sonorità nel suo nome e cognome Davide è un nome molto comune in effetti però ai Cardi mi dice qualcosa però magari mi sto sbagliando io la storia si intitola Paperino Billy e il blu nevoso svolazzante ed è una storia che vede per l'appunto il blu nevoso una sorta di tartufo molto particolare che Zepo Perone vuole a tutti i costi e spetterà a Paperino e a Billy la capretta di Nonna Pabera in realtà e provare a prenderlo perché questo blu nevoso questo tartufo particolare ha la particolarità ha la particolarità di svolazzare prende e vola creando una serie di gag molto da cartone animato molto slapstick molto per l'appunto da cartone animato una tra le ultime se non l'ultima è proprio una delle gag che si potrebbe tranquillamente riscontrare in un cartone animato e che non sa troppo da ecco se vogliamo da fumetto per quanto se penso ad un cartoon ad un corto a cartone animati Disney ci potrebbe tranquillamente stare come scena e quindi non vorrei che in realtà per qualche motivo quest'autore venga dal mondo dell'animazione per quanto ecco non ho fatto verifica in merito però ci potrebbe stare tranquillamente come cosa e la storia è strana nel senso è divertente è una storia che però si prende questo inizio lunghissimo molto lenta almeno all'inizio c'ha tante scene anche la pagina iniziale che poteva essere fatta in un'altra maniera per entrare un pochettino più nel vivo più tutte le spiegazioni insomma si prende molto tempo all'inizio poi c'ha questa sequenza di gag molto riuscite molto divertenti molto frizzanti e dinamiche che reggono comunque anche perché sono molto veloci sono quasi tutte mute quindi ci stanno cioè ti fanno proprio scorrere la storia in una maniera molto molto veloce è un finale che non è nulla che faccia strappare i capelli però è un finale cioè fondamentalmente era un modo per innestare delle gag il finale si poteva tranquillamente omettere fondamentalmente e la storia sarebbe comunque riuscita il finale giustamente chiude la vicenda in una maniera che ci sta fondamentalmente alla fine si prosegue con la nota dolente di quest'albo che è una storia di Gabriele Panini per i disegni di Maurizio Amendola Paperi, Misteri, Guai Disastri in Cantiere dove abbiamo Paperina e Paperoga in un cantiere dove combinano tutta una serie di disastri perché qualunque cosa tocchino rompono qualcosa fondamentalmente e la storia è essenzialmente tutta qua non fa danni da nessuna parte se non qualche disegno di Amendola in qua e là e la vicenda secondo me funzionicchia abbastanza ecco non dovendo prendere elementi strani contesti strani cose molto particolari anche qui forse all'interno di questa serie è quella che sa più da cartoon proprio perché comunque se in un cantiere succedono cose strane e quindi le cose sono anche abbastanza divertenti in un cartone animato renderebbero molto molto renderebbero davvero tanto quindi il risultato finale è decisamente apprezzabile molto divertente e ripeto è la nota dolente dell'albo quindi capite secondo me la buona qualità di questo volume chiude l'albo la macchia invisibile di Matteo Venerus ai testi predisegni di Francesco Dippolito un Francesco Dippolito che non mi ha convinto al 100% ma c'è anche da dire che c'è tutta una sequenza con a un certo punto manetta che ha le bocche più strane del mondo ha questa anatomia stranissima tutte le volte la bocca non ve ne parlo quindi è palesemente una storia che è stata ampiamente rivisitata soprattutto appunto ritoccata per quanto riguarda manetta per togliergli il sigaro questa è proprio una roba evidentissima quindi è sicuramente una storia che stava lì in magazzino da un po' su Matteo Venerus sapete che io ultimamente non è che sto parlando proprio bene ok perché è un autore che non mi piace come scrive cosa scrive essenzialmente e non mi dà proprio gusto la lettura mi sembra pesante mi sembra messo lì giusto per la storia è una storia molto particolare è ambientata nell'ottocento è ambientata fine ottocento quindi è un'ambientazione anche quasi pseudo storica e abbiamo un misterioso viandante ricoperto di bende che raggiunge una locanda e chiede di poter dormire lì dopodiché comincia a vagare in giro a chiedere cose a cercare a fare non si capisce bene quale ruolo abbia fino a quando non si capisce che questo uomo qui ha tutte queste bende tutte queste strutture se vogliamo perché è completamente invisibile da lì in poi comincerà tutta un cercare di capire perché è invisibile cosa è successo come è successo che lui è diventato invisibile con tutto il secondo tempo perché è una storia in due tempi che si focalizzerà proprio su il passato di questo personaggio e cercare di capire chi è cosa ha fatto e come eventualmente si possa affermare un uomo invisibile perché comunque per quanto la storia si titoli la macchia invisibile l'antagonista il protagonista in realtà è proprio macchia nera che in qualche modo è anche l'antagonista della storia stesso quindi è una storia dal punto di vista dell'antagonista un antagonista però credibile in quanto tale è un macchia nera credibile come antagonista in quello che fa anche se la storia si dilunga in alcuni punti in una maniera un po' poco interessante c'è tutta una maxi sequenza che con gamba di legno molto lunga molto prolissa poco interessante se vogliamo anche perché sembra non portare da nessuna parte e forse era un'idea che si doveva sviluppare in un lasso temporale un po' più lungo di una storia da un capitolo quindi ne sono stati dati due ma c'è effettivamente qualche problema di ritmo tra i due tempi in maniera abbastanza secondo me vistosa anche i dialoghi non mi sono parsi tutti molto naturali ce ne sono alcuni che mi sono sembrati molto forzosi molto forzati il risultato finale però è una storia che nel suo complesso risulta divertente gradevole strana vuoi investigare vuoi indagare sul personaggio di macchia nera vuoi capire che cosa c'è dietro perché sta succedendo quello che sta succedendo e se partecipi in una qualche maniera delle vicende e questo da una storia di venerus è una cosa che non mi aspettavo più è una cosa che mi sono detto no sono quante pagine sono credo che siano 60 pagine tutte questa storia se non di più e ultimamente gli italici papri hanno fatto una fatica incredibile ad arrivare alla conclusione della storia di ogni singolo capitolo qui la storia è scorsa via con piacere al di là ripeto di alcuni problemucci ma sono più un problema di ritmo che non di interesse in quello che succede è più un problema di battute frasi a parer mio un po' forzate che non quello che poi succede cioè quello che succede è bello interessante vuoi andare avanti quindi è una storia che funziona in larghissima parte ha qualche problemuccio ma ci passo sopra tranquillamente e se penso che questa è una storia di magazzino di venerus mi vieno a dire ma che ti è successo venerus cioè mi ricordo di tue storie nel passato belle tant'è che mi sono mi fidavo di te su wizard of mickey quindi ai tempi del tuo passaggio a wizard of mickey avevi una nomea di un autore che comunque ci sapeva fare e mi piacerebbe rivederti ritrovarti sotto quell'ottica sotto quest'ottica di storie comunque che mi destino interesse e voglia di proseguire nella lettura e non come ahimè negli italici papri dove la voglia veniva meno capitolo dopo capitolo che ho letto giusto perché avevo il topolino sotto mano e questo è un po' tutto quello che avrei da dire fondamentalmente un topolino che anche rispetto al precedente mi è sembrato di gran lunga superiore un topolino che si avrà delle note dolenti avrà qualche problemuccio in alcune storie ma che se la settimana scorsa era un vabbè se avete tempo e modo di acquistarlo compratelo questo giro qui non è un capolavoro però ne vale la pena quindi diciamo che compratelo e leggetelo secondo me non ve ne pentirete nel caso ve ne pentiate scrivetemelo qui sotto nello spazio dei commenti dicendomi il perché vi è piaciuto questo topolino non vi è piaciuto cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto io le mie motivazioni ve le ho dette vi aspetto quindi qui sotto per poter continuare il dialogo con voi lettori da francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao